Inaugurata questa mattina la porta del parco di Bagnoli, struttura d'accesso all'ex area industriale con un auditorium da 300 posti, un parcheggio e alcuni spazi ricreativi con wifi libero. L'apertura della porta segna simbolicamente il primo passo verso la riattivazione dell'area di Bagnoli con un calendario di azioni che a partire dai prossimi mesi restituiranno progressivamente lo spazio al quartiere e alla città. Io sono molto soddisfatto del lavoro che sta facendo il nuovo CDA di Bagnoli Futura con il direttore generale, oggi non è un impegno un fatto, qua su Bagnoli è importantissimo il fatto che l'altro giorno Bagnoli Futura e la regione hanno firmato il protocollo per il parco, l'archeologia industriale, se rimessi in moto in movimento abbiamo risumato un cadavere qua. In autunno saranno aperti il parco dello sport e successivamente il turtle point.